Chiara Ferragni e l'abito da sposa? La blogger è una nuvola di tulle Le fan di Chiara Ferragni sognano ancora una volta guardandola in questo meraviglioso outfit stile abito da sposa tutto tulle, la ragazza è alla Paris Fashion Week e, come fa sapere dal suo profilo Instagram, si sta preparando per un nuovo shooting fotografico Chiara Ferragni e l'abito da sposa? Il design è meraviglioso. Tutti gli appassionati della storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez continuano a sognare grazie a nuovi post che vengono puntualmente condivisi dai due piccioncini su Instagram Appena prima del messaggio con gli auguri per il loro primo anniversario insieme, ecco che spunta un video piuttosto interessante, che vede l'influencer di Cremona avvolta in una gigantesca nuvola di tulle Sarà questo il suo abito da sposa? Le fan sognano e in effetti il design di questo splendido abito total pink, griffato ola, sembra davvero perfetto per lei Adeso alla sua meravigliosa e slanciata silhouette, ecco il mini dress rosa chiaro che costituisce il corpo principale dell'importante abito indossato per la Paris Fashion Week, mentre balze molto voluminose di rose o tulle confetto avvolgono la base del vestito, per poi sfociare in una cascata voluminosissima come eterea e lunga coda ostracico La fashion blogger più in del momento appare felicissima di indossare questo incredibile outfit da principessa e dimostra tutta la sua esuberanza nel video condiviso con i fan Insieme a lei, poi, c'è un elegantissima ospite d'eccezione, Natia Bascal, iconica modella e socialite spagnola diventata stilista proprio per Ola e che ha dichiarato la sua gioia nell'aver collaborato con la meravigliosa Chiara Ferragni Chissà se chiederà a lei, maestra di stile e di charme, di disegnarle davvero il suo abito da sposa, oppure se creerà a lei stessa il vestito, in ogni caso, alcuni gusti di Chiara, in merito, li stiamo, piano piano scoprendo sempre di più Questo modello, indossato a Parigi, ricorda molto da vicino quello scelto per il red carpet di Venezia, lì, Chiara sembrava davvero incarnare una principesca sposa, con un abito cortissimo e attillato e un lunghissimo e leggerissimo strascico che si librava nella brezza lagunare Dunque, saranno queste le principali caratteristiche del suo wedding outfit? Tutto quello che sappiamo sull'abito da sposa di Chiara Ferragni. I fan non stanno più nella pelle e si chiedono ogni giorno quando Chiara Ferragni e Fedez annunceranno la data ufficiale del loro matrimonio Il rapper ha chiesto la mano della fashion blogger ormai cinque mesi fa e i due hanno da poco celebrato il primo anno insieme, del matrimonio, però nessuna notizia Sui dettagli di questa tesissime nozze, però, siamo un po' più eferragni, grazie alla neo trentenne, per esempio, sappiamo che la location potrebbe essere nella splendida Verona il wedding set elegantissimo e ricco di roseti E l'abito da sposa? Chiara è tradizionalista, quindi il bianco è un'opzione, ma in una delle sue rivelazioni ha fatto intendere che potrebbe esserci spazio anche per altri colori Per ora, il più quotato è rosa confetto, come indica l'abito sfoggiato a Parigi e l'outfit che ha incantato la mostra del cinema di Venezia Anche la resta